Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile. Troverà sicuramente un modo facile per farlo. Fatto è meglio che perfetto. La prima frase l'ha detta Bill Gates. Parlando con gli imprenditori, noto spesso una tendenza nel procrastinare, nel cercare sempre di creare un qualcosa di perfetto. Questo è uno degli errori più comuni, ma allo stesso tempo gravi. Mentre loro stanno lì a pensare, a riflettere, per creare un qualcosa di perfetto, c'è dall'altra parte un concorrente che esegue. L'esecuzione batte la progettazione. Progettare ovviamente è fondamentale, ma deve essere fatto in un tempo limitato e definito. Bisogna darsi una scadenza e poi passare subito all'esecuzione. Vuoi creare un nuovo prodotto o servizio? Crea una versione base iniziale dello stesso con funzionalità minime. Questo ti permetterà di testarla sul mercato. Il tempo poi per migliorarlo, se il mercato accetta il tuo servizio prodotto, ci sarà sicuramente. Male che vada, avrai risparmiato tempo ed energie.